ciao sono urpi l'assistente virtuale dell'ufficio relazioni con il pubblico del ministero dell'istruzione pensato per aiutare il cittadino nel trovare le risposte alle domande più frequenti urpi e ricerca la mia intelligenza artificiale è stata implementata con i dati raccolti in dieci anni di assistenza al cittadino urpi e per tutti genitori studenti docenti professionisti grazie alla mia semplicità di utilizzo e al mio linguaggio multi target urpi e semplicità il mio motore di ricerca semantico è facile ed intuitivo vuoi farmi domande senza utilizzare parole chiavi particolari se non conosco la risposta ti metto in contatto con i miei colleghi dell'ufficio relazioni con il pubblico urpi è un laboratorio di cittadinanza attiva la mia intelligenza artificiale aggiorna ad ogni tua richiesta migliorando e fornendo giorno dopo giorno risposte sempre più complete urpi e trasparenza perché ti aiuto a trovare tutte le informazioni sulle le attività della pubblica amministrazione snellendo il lavoro dell'ufficio urpi è accessibile con la mia voce aiuto i cittadini portatori di handicap vuoi anche non passare a trovarmi in ufficio ti posso aiutare in qualunque posto tu sia urpi è multicanale e multipiattaforma perché posso essere utilizzato sia da smartphone che da desktop sono anche integrato ai canali social dell'ufficio relazioni con il pubblico come facebook urpi è efficienza ho risposto in un anno a 417 mila richieste di 117 mila utenti in tempo reale e il mio sistema di customer satisfaction integrato consente di avere feedback immediati da parte del cittadino urpi è il futuro degli uffici di relazione con il pubblico urpi è l'evoluzione della digitalizzazione della pubblica amministrazione urpi è l'assistente virtuale del ministero dell'istruzione grazie a tutti Grazie a tutti.